Arezzo è una città molto molto carina, l'ho definita una bomboniera, è una bella città accogliente, vivibilissima credo anche a piedi, ancora non ho avuto modo di capire se sicuramente ci sono e quali mezzi pubblici esistono ad Arezzo, ma è una accogliente, assolutamente accogliente, Arezzo e gli aretini che sono riusciti a conoscere. Le problematiche più o meno sono diffuse e uguali, anche se in misura percentuale diversa sul territorio italiano, vanno dalla microcriminalità ai più alti crimini di criminalità organizzata di cui ci si occupa in collaborazione ovviamente con la sezione criminalità organizzata di Firenze, vedremo quali sono le risposte da dare in maniera più veloce a quelle che sono le esigenze della sicurezza percepita e richiesta dai cittadini di Arezzo. I miei uomini sì, ho avuto modo di conoscerli, hanno un entusiasmo dai ragazzini dell'asilo, sono prontissimi pur avendo una enorme esperienza che invece a volte in determinati casi, che qui non ho riscontrato, porta una stanchezza nell'attività. Loro hanno voglia di fare, sono prontissimi a dare tutte le risposte che dobbiamo.